Chi sono? Chi sono? Passiamo! Grillo Parlante! Preconto! Lucignolo! Lucignola! Buongiorno signori, questa sera voi lo sapete bene, siete qui perché dovete dare una collocazione al nostro burattino ultimo. Non lo so. Quando abbiamo sbagliato maestro? In tutti i modi. In che modo abbiamo sbagliato maestro? In tutti i modi. Essere o non essere, questo è il problema, morire e sognare. Le nuvole sperse nel mare, sarai per sempre nel nostro cuore. Perché ci tappano la bocca? Così, tanto per viveremo. Che entri dunque Pinocchio! Che entri Pinocchio! E' bella! Grazie.